Salve ragazzi, rieccoci con un nuovo video, siamo nel server di Minecraft targato Legacy Project Kerbal Italia e siamo qui nel nuovo spawn che abbiamo realizzato da poco con i ragazzi che vedete qui in server comunque lascio la parola ad Andrenator96 che... Che so Andrenator di Kerbal Italia, va bene bene, intanto già si possono vedere cambiamenti, abbiamo fatto prima una precedente apertura ma abbiamo avuto dei piccoli problemi e allora abbiamo deciso un po' di riprogettare il tutto questo è un server a partenza diretta, inventato da me a partenza diretta dato che non credo ci sia qualche altro server a partenza diretta come lo intendo io a partenza diretta inteso che non ci saranno comandi tipo slash spawn, kit tool eccetera roba varia ma si scenderà e tranquillamente ci sono tre tipi di discesa, dipende come va, c'è il drop, c'è un trampolino e c'è l'acqua che è quello più simpatico tra l'altro e si scenderà e non si potrà più risalire, non ci sarà shop, non ci sarà staff inteso non ci saranno admin che svolazzeranno, che vi vedranno gli inventari o altre cose noi admin infatti saremo giocatori semplici, avremo solamente la possibilità di chiccare, bannare e mutare le persone è un minimo comunque di amministrazione in questo caso, non avremo né hop, né game mod, né fly, né god mod, né altra roba del genere anzi avremo ognuno la propria fazione, cioè più o meno io la farò con i miei di Kerbal Italia che Eddie sa farà per conto suo, ci sono molti meno plugin, però sono rimasti alcuni fondamentali come può essere l'economy, così che magari se uno vuole venderti qualcosa è tipo Eddie, hai 50 blocchi di decoso, io ti do 10 dollari e tra l'altro, tra l'altro, in questo modo ok, le armi ovviamente si metteranno non si metteranno se facciamo un sondaggio facciamo un sondaggio non si mettono le armi io lo uccido ragazzi, giusto, io uccido e disco vabbò direi che possiamo pure buttarci, no? che scegliete voi? io scelgo io acqua gli altri? ciao Andrea sembra che se ne va nello scarico del bagno trapolino ok non mi resta la via centrale ciao ragazzi, ci vediamo in server uìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti